allora innanzitutto sono contentissimo e ringrazio specialmente coach panza tutto lo staff presidente fabriano di fabriano per avermi accolto ed essere di essersi interessati e comunque sono felicissimo di ritornare in italia e iniziare la mia carriera professionistica qua specialmente a fabriano bella piazza e piazza importantissima anzi per basket e abbiamo ambizioni grandissime daremo tutto il possibile quest'anno per salire da papà e i miei fratelli l'avete sicuro visto che noi siamo più giocatori offensivi cioè non dico che non siamo difensivi però le nostre le nostre capacità offensive sono c'è il nostro punto fu il nostro punto forte diciamo specialmente tiro e ovviamente anche usare il fisico giocare in poste e anche altre cose in difesa neanche avuto mai problemi sempre impegnato e sempre rimasto davanti all'attaccante ed è tutto prima di tutto è stato un grande onore sia giocare per la nazionale slovena e per una quadra grande una società grande come come il bayern monaco e esattamente si mi hanno formato tanto come sia giocatore e mi hanno anche preparato per il futuro per essere un giocatore professionista come da c'è partendo da quest'anno io allora è iniziato tutto che todor già giocava la stella azzurra con il mio fratello quello più grande amar poi amar se n'è andato negli states e poi sono arrivato io alla stella azzurra e ho giocato con todor che comunque todor ha pure giocato a tortona con mirza quindi ha giocato con tutti noi tre però io sì l'ho conosciuto la stella azzurra ed è stato come un fratello maggiore per me sia sia me che altri giocatori anche miei amici stanno sia facendo i loro percorsi fuori fuori dall'italia per esempio matteo spagnolo che a real madrid abramo zanka che adesso è andato al locomotive cuban e vari altri insomma quindi la stella azzurra è un grande vivaio europeo